Spesso sulle piante vive e su quelle morte si trova questo fungo grigiastro, schizofillum comune, fungo cariogeno che provoca degradazione del legno e nel lungo periodo morte della pianta. Osservando lo schizofillum comune allo stereomicroscopio che abbiamo ingrandito di 20 volte e poi abbiamo utilizzato lo zoom per ingrandirlo un po' di più, possiamo osservare le lamelle presenti sulla parte inferiore del fungo. In queste lamelle si formeranno le spore che con l'azione del vento possono andare a colonizzare altre piante ferite e quindi possono infettare altri individui. Osserviamo infine le spore tondeggianti di schizofillum comune al microscopio ottico.